Redevo per questa bellissima Leder Go di Passenger, è stupenda questa canzone che mi viene incontrata perché poi alla fine c'è un momento di silenzio, è stato inquietante un attimino. Allora, nel punto doc di oggi ripariamo di un evento di cui vi ho già parlato, però insomma è talmente tanto importante che vale la pena puntare i riflettori su questo evento che si terrà sabato 22 al Circolo Tennis, con, insomma, arrivano in Puglia due rappresentanti di un gruppo storico del passato della dance e sto parlando degli Chic, il concerto di Norma Jane Wright e Lucy Martin si terrà appunto al Circolo Tennis questo sabato 22 a partire dalle ore 23, Insomma, ci sarà un'atmosfera tipica della disco music, ci si potrà scatenare con le canzoni del repertorio degli Chic, una tra tutti, la ricorderete tutti, le Freak, insomma, la si sente ancora adesso nei nostri club, nelle nostre discoteche, soprattutto nel momento divertentismo, no? A seguire ci sarà poi il DJ set di una persona che noi conosciamo giusto un po' già Luigi Maggi, eh? Sto parlando del DJ set di Pasquale 33, lui non lo conosce, ed è il nostro direttore, quindi credo valga la pena davvero andare a questa serata, molto molto interessante, poi se vi volete scatenare, se siete appassionati di disco dance, insomma, che aspettate al Circolo Tennis sabato 22 giugno a partire dalle ore 23. Ebbene, la puntata di oggi finisce qui e finisce anche, insomma, la radiobari.calta per questa settimana, noi ci risentiamo e ci rivediamo lunedì mattina, io ringrazio già Luigi Maggi per la regia di Radiobari e Federico Semplice per la regia di Telebari, vi ricordo la nostra pagina Facebook radiobari.calta e il nostro indirizzo mail.calta.chiocciola radiobari.net, buon weekend a tutti e a lunedì!